Lo ringrazio, grazie mille. L'agente Prieto è stato operato. Si la caverà. Questa è una bellissima notizia. E la nostra coppietta è finalmente riunita. Credo che si meritino un po' di premasi. Ehi, dov'è il tuo completo oggi? Sono venuti a sostituirmi degli agenti da Washington. E ti vorrei sapere una cosa. Quando ci hai dato l'incarico, eri a conoscenza della minaccia nordcoreana? Credo che a volte si tratti solo di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. È arrivato il pranzo. Take away il coreano! A proposito, i cinque nordcoreani che abbiamo eliminato erano sulla lista del chip del cane. Il chip del cane? Hobbs aveva nascosto lì la lista, con i nomi di dieci agenti nordcoreani dormienti. Giusto. Tre eliminati a Natale. Cinque oggi restano solo due agenti latitanti. Uh, sento il profumo di Sundubu. E Insamca e Kimbafi, i tuoi preferiti? Sì, no, non penso che ne prenderò il mio stomaco e un tantino sottosopra. Non avrai bevuto l'acqua nel minibar con l'etichetta verde, vero? Oh, no, no, ma... Oh, non stai bene? Cosa ti senti? Non lo so, forse è solo una piccola indifestione di karaoke coreano. Dove vai? Oh, ma guarda cosa c'è qui. Le rose sono rosse, le violette sono blu, la tua scrivania è un disastro, ma... Ma? Ma non mi importa perché tu ne vali la pena e non ci scherzerò più sopra d'ora in avanti perché ti amo. Sono stato ispirato da Kang riguarda l'accettazione. Non so se l'accetto, dobbiamo lavorare sulla tua lirica. Ma se la leggi ogni quattro parole, diventa una poesia di Kitz. Oh, Dix. Così non verrà risocchiato nell'aspirapolvere dal tuo stupido fidanzato. Volevo farlo incornizzare da tanto tempo. Grazie mille, Dix. Kanzi, qui finisce tutto. Arrivo. Il Kinch è avanzato, credo che mi farebbe bene. Ho sentito dire che ha proprietà terapeutiche. Ma lasciane un po' a donne Kang. Cosa intendi fare per proteggerla? Una casa sicura e poi delle nuove identità. C'è una casa sicura che potrebbero usare. La famiglia di Hannah sta uscendo dalla custodia protettiva. Sul serio? I servizi dicono che la minaccia sia ridotta. Ne è sicuro? Beh, sicuro quanto è possibile esserlo. Riavrà indietro la sua famiglia. Bene, la ringrazio. E anche la mia schiena la ringrazia. Qui ci vuole un brindisi allora, in coreano. Oh, va bene. Traduzione, per favore. Dopo le avversità, arriva la felicità. Salute. Cinti. 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 Mm-hmm.